Musica A Benevento festeggiata la Madonna delle Grazie ha rinnovato il rito di accensione della lampada votiva. Inaugurata nel capologo Sannita la nuova strada che collega il vigorito esordio per il match Francia-Sudafrica. Nociara inferiore pronta ad accogliere alcune gare delle universiadi. Schianto tra un'auto e un pullman lungo la vecchia ofantina, tre feriti. Nel casertano appiccavano un cendi per raccacciare i cinghiali così riducevano l'habitat degli animali. Misure cautelari per due giovani. Nuova edizione del BND News, ben ritrovati. L'abbiamo appena sentito, il Sannio celebra la Madonna delle Grazie in una basilica stracolma di fedeli provenienti da tutta la provincia e di rappresentanti delle istituzioni politiche e militari. Il Vescovo di Benevento a Crocca ha ricordato come la grazia va intesa come quella forza che Dio dà all'uomo per compiere il bene. Sentiamo. La festa della Madonna delle Grazie, patrona di Benevento e regina del Sannio, vive il suo clou come da tradizione secolare, nei giorni 1, 2 e 3 luglio. Presso la basilica di Viale San Lorenzo, retta dai frati minori francescani, è già incessante il peregrinaggio di fedeli provenienti da ogni comunità del Sannio e dell'Irpinia. Il novenario, in preparazione alla festa, ha visto alternarsi ai piedi della Vergine i pellegrini delle zone pastorali dell'Arcidiocesi di Benevento e delle comunità francescane della provincia sanita Irpina. Nel giorno della vigilia della solennità di Santa Maria delle Grazie, l'appuntamento più sentito è stato quello della veglia, in onore della Madonna. Oggi invece c'è stata la celebrazione di sante messe ogni ora, alle 10 la celebrazione solenne, presieduta dall'Arcivescovo di Benevento, Monsignor Felicia Crocca, con la partecipazione dei canonici della cattedrale, dei parroci della città e dei frati minori. Nel corso della liturgia eucaristica si è ripetuto il tradizionale rito di accensione della lampada votiva, la Madonna delle Grazie, da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Un rito che rinnova il voto cittadino del 1836, quando il popolo beneventano, come segno di gratitudine per l'intercessione della Vergine che aveva salvato la città dall'epidemia del colera, decise di edificare il tempio a lei dedicata. La celebrazione presieduta dall'Arcivescovo è stata animata dalla corale cittadina Mater Misericordie, diretta dal maestro Daniela Polito. Nel pomeriggio ancora la celebrazione di sante messe ogni ora. Mercoledì 3 luglio è invece la festa della provincia francescana, dei frati minori del Sagno dell'Irpinia, fondata nel 1911 e intitolata Santa Maria delle Grazie. Nel pomeriggio del 3 luglio ci sarà un momento dedicato a tutti i bambini, con la consagrazione dei piccoli alla Madonna e un momento di festa finale sul Sagrato della Basilica. A corollario del programma religioso della festa, la Tenda Giovani, uno spazio dove verrà proposta ai giovani che si regheranno a visitare la Madonna, un'esperienza di annuncio per rascoprire l'amore di Dio attraverso la bellezza dell'arte, della musica e della danza. Inaugurata nel capoluogo Sannita la nuova strada che collega il Vigorito, esordio per il match Francia-Sudafrica. Uno, due e tre, ecco, benissimo. Inaugurata la strada che collega il parcheggio del settore distinti del Vigorito, convia Don Luigi Sturso nei pressi dello svincolo stadio della tangenziale di Benevento. L'importo dei lavori per l'arteria finanziati dall'Universiade è stato di oltre 300.000 euro. In totale anche per gli interventi all'interno dello stadio la cifra è di 1.100.000 euro. Un tratto, 241 metri di asfalto, che però consentirà la decongestione del traffico veicolare in occasione delle gare e costituirà un ulteriore percorso di deflusso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Il primo test per l'infrastruttura con il match fra Francia e Sudafrica. All'inaugurazione erano presenti i membri della giunta comunale, il consigliere con delega allo sport Enzo Lauro, che si è occupato dei rapporti con la struttura organizzativa e ha curato da vicino gli interventi e gli impianti sanniti. Il delegato del CONI, Mario Collarile, è Umberto Dell'Omo, rappresentante dell'organizzazione dei giochi universitari. L'Universiade, ha concluso Mastella, rappresenta un momento importante per la città. Invito tutti ad andare a fare il tifo per gli atleti e partecipare ad un evento di caratura internazionale. Tutto pronto dunque per le universiadi che si terranno dal 3 al 14 luglio a Napoli. Le gare delle varie discipline sportive non avranno luogo soltanto nel capologo campano, ma in molte città della Campania. Nocera inferiore, inclusa. Bandiere su via Barbarulo e via Garibaldi, vetrine allestite a tema, locali pubblici che si apprestano ad accogliere atleti e delegazioni con striscioni e prodotti tipici. Anche il Museo di Ocesano San Prisco ha prontato delle aperture con la promozione in italiano e in inglese. Clima di festa. Nucera inferiore che si prepara ad accogliere quanti arriveranno in città per la trentesima universiade. Le cui gare si disputeranno a Napoli e in decine di impianti di tutta la Campania, tra cui il Palacoscioni e il San Francesco. Ieri i primi allenamenti delle nazionali di pallavolo al Palazzetto dello Sport. Stasera è il debutto delle nazionali di calcio. Oggi è il turno di Messico-Russia nel rinnovato Stadio San Francesco con il nuovo impianto di illuminazione. Prima del match l'amministrazione comunale ha affidato all'Associazione Italiana Maestri Cattolici l'organizzazione della cerimonia d'apertura con i saluti del sindaco Maglio Torquato e un'orchestra sinfonica che, grazie a un soprano, Anna Corvini, a un tenore, intoneranno con un coro il canto degli inni nazionali e quello della città di Nocera Inferiore. A vigilare sull'ordine pubblico saranno gli agenti di tutte le forze dell'ordine e i militari di tutte le forze armate. A coordinare le operazioni nocerine sarà il commissariato di pubblica sicurezza. Dal 26 giugno è presente anche un presidio dell'esercito italiano. In tutta la regione è stata schierata una task force di circa 500 soldati impiegati nella sorveglianza dei siti di gara e degli obiettivi sensibili interessati dall'Universiade. Due giorni di lavoro per la Commissione parlamentare di inchiesta sull'ecomafie a Salerno. Sopralluoghi e riunione in prefettura sui traffici illiciti di abiti usati, incendi in impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti, traffici transfrontalieri e dragaggio dei porti. Il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giuseppe Menna, ed il presidente dell'autorità portuale del sistema del Mediterraneo, Pietro Spirito, comincia da loro con il sopralluogo e l'audizione fissati nel pomeriggio il lavoro d'indagine sul porto di Salerno della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le ecomafie oggi e domani a Salerno. Alle 13 domani in prefettura il presidente della Commissione Stefano Vignaroli incontrerà la stampa per illustrare gli esiti e le prime indicazioni emerse dal lavoro che in modo particolare nel comune Capoluogo si concentrerà sui lavori di dragaggio dei fondali del porto commerciale di Salerno. L'intervento atteso da anni potrebbe in qualche modo richiamare l'attenzione di chi gestisce traffici illeciti di rifiuti e dei fanghi speciali prodotti dagli scavi. Questa è la preoccupazione della Commissione ed è stata anche una delle problematiche più rilevanti per l'avvio dell'intervento che consentirà l'arrivo e l'attracco di navi da crociera più grandi come ha ribadito in un'intervista anche l'amministratore delegato della società Stazione Marittima di Salerno, Orazio De Nigris. L'obiettivo di quest'anno è raggiungere non solo un numero di passeggeri interessante ma anche con standard qualitativi ancora più elevati. Per prepararsi alle famose navi da crociera perché la Stazione Marittima attende che possano arrivare e approdare qui. Il nostro timing prevede novembre, un momento molto importante perché finalmente a metà novembre cominceranno i lavori di dragaggio e quindi ci auguriamo che le navi che ancora quest'anno facciamo all'interno del porto commerciale già dalla prossima stagione crocieristica possiamo ospitarle qua al Molo Manfredi. Due ore di sciopero e blocco stradale in via Argine a promuovere la nuova iniziativa di lotta e la RSU della Whirlpool che sollecita le istituzioni affinché venga al più presto fissata una nuova data al Mise per discutere il destino dello stabilimento partenopeo. Le lavoratrici e i lavoratori di Napoli, scrive la RSU, scendono in strada per difendere i loro diritti e per salvaguardare il futuro delle loro famiglie, intanto in mattinata è stato esposto uno striscione a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, con la scritta Whirlpool Napoli non molla, seguita da una spunta verde. 20 anni di carcere per omicidio volontario e questa la richiesta avanzata al termine della requisitoria dal sostituto procuratore generale della Corte di Appello di Napoli, Carmine Esposito, nell'ambito del processo di secondo grado per la morte di Alessandra Madonna, la ragazza deceduta l'8 settembre 2017 nel Napoletano dopo essere stata trascinata dalla vettura dell'ex fidanzato Giuseppe Variale che è stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi inflitta per omicidio stradale colposo. Per Variale il PM aveva chiesto la condanna a 30 anni per omicidio volontario, le prossime udienze si terranno il 9 e il 15 luglio, intanto stamattina davanti al Palazzo di Giustizia, prima dell'inizio del processo di secondo grado si è tenuto un sitino organizzato dall'Associazione La Forza delle Donne. Maxi truffa sull'accoglienza dei migranti, 4 onlus coinvolte, il consorzio operava tra Lombardia e Campania. Il servizio. L'inchiesta chiamata fake onlus avrebbe al centro delle indagini 4 onlus che avrebbero usato documenti falsi per partecipare ai bandi. Le misure cautelari a carico di 11 persone che avrebbero fatto parte dell'organizzazione criminale dedita alla truffa e l'autoriciclaggio sono state eseguite in Lombardia e in Campania. Ammonterebbe a circa 7 milioni di euro il presunto profitto illecito incassato da queste onlus che si occupano dell'accoglienza dei migranti. In particolare emerge dall'inchiesta coordinata dai PM di Milano, Boccassini e Prisco, condotta dalla Guardia di Finanza di Lodi, che le 4 onlus coinvolte avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici per gestire l'accoglienza di centinaia di migranti, un sistema che contava un giro d'affari milionario. Avrebbero, tra l'altro, utilizzato per scopi personali oltre 4,5 milioni di euro, dei circa 7,5 milioni ottenuti illecitamente i rappresentanti legali delle Ollus e intanto emerge inoltre dalle indagini della Guardia di Finanza di Lodi, che uno dei consorsi di Ollus, che opera nella gestione dell'emergenza migranti, ha partecipato tra il 2014 e il 2018 a bandi indetti dalle prefetture di Lodi, Parma e Pavia. La questura di Napoli ha intensificato l'attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi in tutta la città, applicando le sanzioni amministrative e penali previste dal relativo articolo del Codice della Strada e l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. L'attività durante il mese di giugno ha consentito l'emissione di 172 ordini di allontanamento e di 13 provvedimenti del questore di divieto di accesso alle aree urbane. Inoltre sono state effettuate 21 denunce nei confronti di parcheggiatori abusivi già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane. Ancora è stata inoltrata una proposta di irrogazione della misura di prevenzione personale nella sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di un parcheggiatore abusivo che a causa della reiterazione della condotta e dei precedenti penali risulta, secondo la questura, particolarmente pericoloso per la pubblica sicurezza. È di tre feriti il bilancio dell'incidente di questa mattina sulla strada statale 400 nel tratto tra Chiusano San Domenico e San Mango sul Calore. Una squadra dei vigili del fuoco di Avellino è intervenuta lungo la vecchia Ofantina allo svincolo di Contrada Bosco nel territorio del comune di Chiusano San Domenico per un incidente stradale che ha visto coinvolti un pullman e un'auto. Nel violento impatto sono rimasti feriti il conducente dell'autobus, un uomo di 42 anni ed una passeggera, una ragazza di 25 anni e anche la donna al volante dell'auto di 51 anni originaria di Montemarano. I tre feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Ad Atripalda una violenta rissa nella centralissima piazza Umberto I, una situazione che ha richiesto l'intervento di una pattuglia della locale stazione, quella del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Avellino. I militari hanno subito avviato le indagini per individuare i protagonisti della rissa ed accertare il motivo che l'ha scatenata. Sul posto è stata rinvenuta una martellina gettata da uno degli autori prima di darsi alla fuga che è stata sottoposta a sequestro. Al momento grazie alle indagini sviluppate dai carabinieri condotte incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio si è giunti all'identificazione di tre soggetti che sono stati deferiti in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili del reato di rissa. Tentato furto questa notte presso un'azienda di pannelli fotovoltaici nella zona industriale di Benevento di Ponte Valentino. Quattro persone con volto coperto sono state individuate dalla sala operativa del poliziotto notturno mentre cercavano di asportare dei cavi di rame. I vigilanti hanno prontamente allertato gli agenti della squadra volante di Benevento che hanno messo in fuga i malviventi che uscendo dal retro hanno fatto perdere le loro tracce senza riuscire nel colpo. La polizia è ora impegnata nelle indagini in attesa dell'acquisizione delle immagini della videosorveglianza per risalire agli autori del tentato furto. Tre aziende bufaline ubicate nel comune di Sant'Ammaro nel Casertano sono state sequestrate dai carabinieri forestali su ordine del GIP di Santa Maria Capovetere per il reato di inquinamento ambientale e illecita gestione di rifiuti zootecnici. Per la procura che ha coordinato le indagini le tre aziende avrebbero sversato i liquami prodotti dagli animali e le acque reflui di lavaggio dei macchinari nel terreno e in un canale che poi affluiva nei reggilagni, il lungo corso d'acqua artificiale che attraversa il Casertano fino al mare. I carabinieri forestali di Letino nel comune di Gallomatese alla frazione Vallelunga hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro preventivo un grosso cumulo di rifiuti speciali non pericolosi a bancato su una piazzola sterrata avente un volume di circa 450 metri cubi. L'area di interesse è pertanto risultata sottoposta a vincolo paesistico perché ricadente nel piano territoriale paesistico ambito massiccio del Matese. Il cumulo di rifiuti è risultato configurare una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi in quanto non rientrante nella fattispecie del deposito temporaneo. 53 cantieri edili spezionati per un totale di 92 aziende coinvolte, 38 attività sospese soprattutto a causa delle decine di lavoratori in nero scoperto. È il bilancio dell'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord che ha visto in campo oltre 100 ispettori degli ispettorati del lavoro di Caserta in Napoli, i carabinieri e i tecnici dell'ASRA Napoli 2 Nord e di Caserta. Nel mirino i cantieri edili di parte del territorio compreso tra le province di Caserta e Napoli ricadenti nel circondario della Procura. Durante i controlli sono stati scoperti 98 addetti in nero su un totale di 208 operai, il 75% presenti nei 53 cantieri. Sono emerse numerose violazioni penali in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Un'attività è stata sequestrata. Al termine dell'operazione sono state levate sanzioni agli imprenditori per oltre 200 mila euro. Nel Casertano appiccavano incendi per cacciare i cinghiali, così riducevano l'habitat degli animali. Misure cautelari per due giovani. Il servizio. Hanno appiccato tre incendi boschivi sul Monte Maggiore nel Casertano con lo scopo di ridurre l'habitat naturale del cinghiale, costringerlo in un'area sempre più piccola in modo da avvantaggiarne la caccia. Due giovani, un 25 anni ed una ragazza di 20 anni sono stati così raggiunti dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria immessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capoavetere. Sono stati i carabinieri forestali della stazione di Calvi Risorta ad effettuare le indagini. Tutto è partito dall'osservazione di tre roghi boschivi appiccati con le stesse modalità a luglio e agosto 2018 nel giugno di quest'anno in aree del Monte Maggiore, comprese nel territorio del comune di Rocchetta e Croce, sottoposti a vincoli paesaggistici ed idrogeologici notoriamente frequentate dai cinghiali. Gli inquirenti grazie a telecamere di videosorveglianza e ad una testimonianza hanno scoperto che nei giorni dei roghi e nei punti in cui erano scoppiate le fiamme era transitata la stessa auto su cui viaggiava appunto la coppia di ragazzi. I giovani si sono stati riconosciuti tramite le telecamere. I carabinieri hanno accertato che il 25enne era un cacciatore e usava a cacciare i cinghiali soprattutto attraverso le trappole. L'asla di Benevento rende noto che attivo un numero verde 800 295 771 a disposizione di tutti i cittadini per le richieste di intervento della guardia medica. Fino al 31 agosto il numero affiancherà i recapiti telefonici già operanti presso le sedi della continuità assistenziale mentre dal 1 settembre resterà l'unico da contattare. Il numero è gratuito, centralizzato e contattabile da tutti coloro che risiedono a Benevento e provincia. Sono 31 le aziende iscritte nell'ultimo anno e che riceveranno l'attestato di iscrizione durante la tradizionale cerimonia del Welcome Day che si terrà il 4 luglio nel corso dell'assemblea privata di Confindustria Benevento. Un'occasione anche per presentare lo sportello Elite di Confindustria. Si tratta di un programma studiato per le imprese che hanno voglia di crescere e di confrontarsi con il mondo di borsa italiana e dei fondi di investimento in sistemi innovativi e alternativi al credito bancario. Siamo allo sport, calcio, campagna acquisti del Napoli che comincia a riaccendere il tifo, un buon esterno di spinta di Lorenzo e soprattutto un grande difensore, Manolas. Sono segnali evidenti di come il Napoli di Aurelio De Laurenti, se Carlo Ancelotti, si stia rinforzando. Aspettando il grande colpo in attacco di James Rodriguez. Il club che l'anno scorso non aveva lanciato campagne abbonamenti anche per le precarie condizioni dello stadio, ora è pronto ad avviare la vendita che partirà fra qualche giorno, magari dopo un altro colpo sul mercato. Serie B, il Benevento mette a segno il primo colpo di mercato dell'estate 2019 in attesa di sabato 6 luglio, giorno in cui sarà presentato il nuovo allenatore Filippo Inzaghi. La società sannita è ad un passo dall'ufficializzazione dell'ingaggio di Oliver Kragl, centrocampista proveniente dal Foggia classe 90. Il tedesco ha collezionato 33 presenze in serie B con i pugliesi, facendosi notare per tecnica e fisicità, oltre alla precisione e alla potenza, delle sue conclusioni dalla distanza. Era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle prisioni del tempo e con il resto dei nostri programmi. Grazie dell'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben tornati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 3 luglio. Pressione in diminuzione al nord a causa dell'intrusione di correnti più instabili nel campo anticiclonico subtropicale. I temporali saranno più frequenti su questi settori. Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord passeremo da iniziali condizioni di bel tempo allo sviluppo di fenomeni temporaleschi dalle prime ore del pomeriggio su tutto l'arco alpino. Le precipitazioni potrebbero estendersi in serata fin verso la pianura di Piemonte e Lombardia. Spostiamoci ora al centro dove l'alta pressione protegge tutte le regioni garantendo una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Raggiungiamo infine il sud, anche qui poche novità, con il sole che splenderà indisturbato su tutte le regioni, salvo per locali passaggi nuvolosi sulle coste tirreniche. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 14 gradi e non supereranno i 23 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 34 gradi al nord, fino a 36 al centro e punte di 38 gradi sulle regioni meridionali.